Are you ready? Action! Camera! Ho messo tipo il trolling in cui ci sta tipo Titus che l'hanno chiamato Titusone Ma sai pure gli altri personaggi che gli alfandi si l'hanno chiamato Man Tipo Zidane, l'hanno chiamato Gitan perché sennò somigliava al calciatore Ma che cazzo si fa? Quei sacolti Ma come cazzo sei fettore? Qual è l'olio, vallefor? 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 Qual è che sforzi giusto? Califorio da bucca farlo Valleforio Ma qual è il tuo tuo? Vallefor? E' un altro affare? ahahahahah ahah cos'è questa cosa? le sfoglie le vetine sono già morto sono già morto a 20 anni sono già morto a 20 anni e ci sta sta lucida che mi cieca sono già morto a 20 anni Per me va bene, a fine il paradiso me lo immaginavo un po' così, tutto pieno, luminoso, in maniera scontata, come il piscio dopo la birra. Sì, ma è questo il, quindi io mi trovo praticamente in paradiso, aspetta luce sta, sto smanendo, sto smanendo, eccola, ragazzo, Dio, mi sta a sfondare una retina, Dio, io, io, io rischio di venta, Salirò oggi, Dio, io, io posso davvero un bidan. Dio, che mi sovraggio and aver dal in line, bello, Dio. E' il che mi sovraggio, tu mi esplotivo. E' il canto di me, Dio. Vento tante luci, vento tante scide nell'aria, vento tante scide dell'aria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon auspicio. Buon auspicio. Buon auspicio. Buon auspicio.